Musica Benvenuti nel mio salotto gentili telespettatori, la puntata di quest'oggi di Casa di Allina sarà dedicata ad un settore in particolare, il turismo di lusso. Che cosa significa l'Axure? 5 stelle. Andrò a fondo alle svariate sfaccettature di questo ambito con ospiti come sempre d'eccellenza che vado a presentarvi cominciando da Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale della Federalberghi. Grazie per aver accettato il mio invito. Grazie Alinea, grazie. A seguire Benedetta Pezzella, imprenditrice nel mondo dell'Axure. Avrai tanto da raccontarci. Grazie per l'invito. E' un piacere ritrovarti Benedetta. Anche per me. General Manager Talea Collection, Andrea Sabato. Grazie Alinea e grazie per l'invito. Che bello avervi. Ma soprattutto avervi a proposito di un tema che destra sempre tanta curiosità e molto interesse. Comincio da te Francesco, ci diamo del tu. Qui da me a Casa di Allina il clima è sempre informale tra di noi e dunque ti chiamo Francesco. Si è parlato tanto di questa stagione turistica, anno 2022, che ha riscontrato grandissimo successo. Si parla di due milioni di visitatori. Che cosa possiamo dire di questo ultimo anno? Peraltro dopo un anno nel quale siamo stati letteralmente bloccati, costretti da una pandemia. Quindi 2020, 2021 anno di ripresa, di ripartenza, arriva il 2022. E sembra una vera e propria esplosione rossea. Parliamone. Sicuramente è una bella stagione. Possiamo dire che il 2022 è sicuramente una bella stagione. Però ci sono molte luci e alcune ombre. Perché? Perché nel 2022, come giustamente avevi detto, noi usciamo da due anni di pandemia. Anche se la Puglia è quella tra le regioni italiane che ha risentito meno della pandemia. Il 2022 abbiamo un incremento notevole degli stranieri. Ma al contrario si è notato un decremento degli italiani. Il problema del decremento degli italiani nasce probabilmente dal periodo di gennaio-febbraio quando noi abbiamo avuto sia l'inizio della guerra, quindi da una parte il problema energetico. Soprattutto i primi mesi, quindi febbraio e marzo, noi abbiamo avuto un aumento esponenziale del carro da benzina che ce lo siamo portati fino a maggio. E gli italiani, che molto spesso viaggiano in macchina, hanno preferito altre regioni. Infatti c'è stato un espload, ahimè, buono per loro, per l'Emilia Romagna, il Veneto e la Toscana. E' altrettanto vero che per il comparto di cui oggi parliamo, cioè l'Axery, probabilmente il mercato straniero è quello più interessante. Perché quando dico che ci sono state delle ombre, perché alcuni segmenti, parlo degli alberghi per esempio 3-4 stelle, dei villaggi 3-4 stelle, hanno risentito notevolmente di questa crisi, come per esempio alcune destinazioni non prettamente mare hanno risentito della crisi. Faccio un esempio, giusto per fare riferimento ai numeri. La regione ha dato un incremento inizialmente del 3% per l'estate, aggiustato all'1% in termini di presenze, ma in realtà, ad esempio, a città come Bari, che ha avuto un incremento del 55%, dato che la media è per definizione una media, se Bari ha avuto più 55% e ci deve essere un'altra destinazione che ha fatto meno 50% o 5 destinazioni che hanno fatto meno 10%. Quindi non tutte le luci, alcune ombre che dovrebbero essere analizzate. Il vero problema è questo, che è quando si fa turismo e si fa turismo soprattutto per un comparto come quello del 5 stelle, la programmazione diventa fondamentale. Programmare significa analizzare i dati, significa capire quali sono le tendenze e mettere in atto dei correttivi su queste tendenze. Molto spesso poi il 5 stelle, la categoria, è ottima nella location dell'albergo, ma poi l'attività viene fatta fuori, cioè viene fatta con la pulizia delle strade, con l'accesso al mare in maniera adeguata, con la programmazione degli eventi all'interno dei paesi o delle città conosciuta mesi prima, non il giorno stesso, perché va programmato tutta una serie di servizi. Quindi in termini pratici, una struttura alberghiera che ha 5 stelle assegnate, e che cosa deve offrire al cliente, Francesco? Beh, allora, oggi la norma, che è una norma vecchia che noi contestiamo da mesi, anzi da anni, perché abbiamo una legge del 99, che si decide un albergo se è 3, 4 o 5 stelle, se per esempio è il Telefax, se ha lo sgabbello nel bagno, se ha il riscaldamento, cioè sono norme vecchie, dovremmo adeguarle, e quindi c'è un disciplinare che gran parte dei 5 stelle non rispettano, ma rispettano le logiche del mercato, perché il mercato ti chiede altro, ti chiede per esempio determinati servizi di ristorazione, per esempio la differenza tra un 4 stelle, un 5 stelle, un 5 stelle lusso, è che il ristorante dovrebbe essere aperto H24, o al 5 stelle almeno 18 ore, a scendere. Tutto questo non viene più né controllato né governato, perché la regione ha deciso di non farlo, noi come associazione di categoria lo contestiamo, perché la base è per il futuro, cioè oggi, soprattutto chi fa albergo, chi fa attività alberghiera, l'obiettivo non è dare la fregatura al cliente, l'obiettivo è fidelizzare il cliente, sapere che il cliente fra tre anni tornerà, non torna l'anno prossimo, ma fra tre anni torna, e questo molte volte è... Sapere che il cliente ritorna con piacere, perché in quel luogo è stato bene, si è sentito ben accolto, coccolato, ha vissuto delle vacanze piacevoli. Perché poi noi recepiamo i servizi, i disservizi che il cliente subisce, e molte volte questi disservizi non li intiene all'interno della struttura alberghiera, ma sono al di fuori, e quindi è un problema, è un problema alla gestione, per fare questo c'è bisogno di programmazione, programmazione significa avere un assessore, avere dei capi di partimento della regione, perché il turismo, noi meridionali dovremmo esserne convinti che il nostro oro è di competenza della regione, non è competenza dello Stato, è competenza della regione, le norme le fa la regione, le atto alla regione, la programmazione turistica la fa la regione, con fondi regionali, quindi se noi non capiamo che questo è il futuro della Puglia, siamo in difficoltà nei prossimi anni, perché nei prossimi anni noi dovremo garantire il fatto che non siamo più una destinazione emergente, perché 17 anni fa, quando è stato fatto per la prima volta We Are in Puglia, con la giunta a Vendola, eravamo una regione nuova da scoprire, calcolate che i processi nel turismo non sono mesi, ma sono anni, ci sono voluti 10 anni per arrivare a questo, e poi ci si mette un anno per distruggerlo. Francesco, prima di entrare nello specifico del futuro, appunto, che riguarda la nostra regione Puglia, io adesso mi rivolgo ad Andrea, è importante capire che cosa racconta il mondo del lusso, come ha vissuto questa stagione 2022, e se anche nell'ambito del lusso avete riscontrato, come diceva prima Francesco, un decremento degli italiani. Sì, allora, chiaramente il mondo del lusso è risentito, come tutti gli altri segmenti, di questi due anni difficili. Consideriamo che in due anni abbiamo effettivamente lavorato e siamo una regione fortunata, sei mesi, sette mesi in due anni, negli ultimi due anni. Quest'anno è una stagione che è partita lentamente, iniziati i primi risultati da metà aprile in poi, con molta prudenza, poi, ecco, non possiamo lamentarci dell'andamento da maggio in poi, e chiaramente si registra quello che ha detto Francesco, sono ritornati gli stranieri, finalmente sono ritornati quelli che erano i nostri target di riferimento, cioè il turismo americano, il turismo inglese, dell'Europa del Nord, che è un turismo di fascia altospendente. E finalmente quelle percentuali sono quasi ritornate a essere, il rapporto italiano-stranieri, quelle del 2019. Quest'anno possiamo registrare un 30% di italiani e un 70% di mercato straniero. a regime le nostre strutture tra il 2018 e il 2019 viaggiamo su una forbice 20%-80%, quindi siamo quasi ritornati ai dati del 2019. Certo, poi ci sono dei mercati che ancora non sono ritornati ai dati pre-pandemia, mi riferisco agli eventi di lusso, mi riferisco agli eventi di business, però è una stagione positiva, sicuramente positiva. Per quanto riguarda la classificazione, non posso che essere d'accordo con Francesco, noi strutture ci adeguiamo a quello che dice il mercato. Il mercato in questo momento della fascia altospendente chiede servizi estremamente personalizzati, chiede unicità ed esclusività nelle esperienze e quindi un turismo esperenziale e noi ci adeguiamo a quello che il turista chiede, quindi superiamo sicuramente quelle che sono... Ti farò delle domande dopo circa il turismo esperenziale che affascina tanti, devo dire, di voi. Beh certo, immagino perché il trend e i nostri prodotti si sono adattati a questo, quindi oltre quello che è un elenco di requisiti un po' datato ci adattiamo a quello che il mercato invece ogni giorno il turismo americano, il turismo inglese, il turismo italiano vuole. Quindi non c'è stata crisi all'interno del mercato del lusso rapportato appunto alle strutture alberghiere, alle dimore storiche e a quelle che sono anche le ville di pregio, vero Benedetta? Che cosa si aspetta un turista che sceglie ad esempio una dimora come quella che tu curi? Allora in generale secondo me prima tu hai fatto una domanda secondo me la crisi in generale nel mondo del lusso proprio perché è lusso la crisi non c'è mai. Una persona ricca ma veramente ricca non è il Covid che ha creato diciamo una discrepanza oppure una crisi economica e tantomeno lo sarà la guerra perché anche questo è un grande problema. Noi per esempio abbiamo visto nella nostra struttura l'anno scorso secondo me un po' è anche dipeso da questo almeno per quanto mi riguarda considerando che io ho aperto nel 2020 per cui il primo anno è stato un turismo prettamente italiano pieno Covid il secondo anno quasi tutto italiano 90% quest'anno quasi tutto straniero nonostante abbiamo triplicato i prezzi quindi 2021 ancora quasi tutto italiano quasi tutto italiano al 90% e 10% straniero quest'anno il contrario 90% straniero e 10% italiano però per esempio l'anno scorso settembre, ottobre e novembre siamo stati pieni e con turisti che venivano dall'Europa dell'est ungheresi polacchi anche rumeni ovviamente sempre di alta fascia quest'anno tutto quel turismo non si è proprio visto non è escluso che tutta l'Europa dell'est che è proprio confinante con l'Ucraina e la Russia sia molto spaventato io vedo gli italiani spaventati non oso immaginare la Polonia siamo proprio al confine in realtà l'analisi è ripartita l'Africa probabilmente il problema è che quest'anno è ripartita l'Africa come sono partite i villaggi sono ripartite le fasce alte probabilmente anche questo e invece la Turchia è sempre stata invasata i russi sono andati tutti in Turchia sì è un dato molto interessante questo sono andati in Turchia i russi non sono venuti anche se devo dire che io ho avuto un boom di non credevo ai miei occhi di turisti siberiani uno dice turisti siberiani ho avuto i tre di cui però due siberiani due gruppi separatamente che vivevano a Londra però un gruppo proprio dalla Siberia cioè uno non se li aspetta i siberiani in Puglia uno magari se li aspetta a Roma a Milano avevano bisogno dei nostri colori del nostro sole del nostro calore e ho scoperto che in Siberia c'è anche l'estate vera e propria perché io mi dicevo magari sono venuti invece no in Siberia pensavo fosse sempre freddo non so vabbè prima ignoranza però devo dire è stata una secondo me una stagione più di qualità abbiamo avuto almeno io ho avuto qualche buco nella stagione quindi non sono stata sempre pienissima ma con i prezzi triplicati e con dei turisti che erano così diciamo autosufficienti perché secondo me poi c'è anche questa differenza tra il turista italiano che vuole diciamolo no vuole essere molto coccolato molto seguito e poi lo straniero che è molto più indipendente e quindi secondo me è stato un turista migliore altro dato interessante quindi gli italiani vogliono essere decisamente più coccolati vogliono più attenzioni rispetto agli stranieri che si adattano invece ogni tanto posso dire che si vengono a ricoverare hanno bisogno di rilassarsi sì proprio di attenzioni di babysit però Francesco c'è da dire c'è da dire che le aspettative sono sempre molto alte nel momento in cui si sceglie appunto di soggiornare all'interno di una struttura l'axoli però anche le stesse aspettative possono averle anche gli stranieri quindi voglio dire tra i due c'è differenza diciamo siamo poviziati l'approccio è diverso il mercato ad esempio il mercato inglese o il mercato americano diciamo con le dovute differenze preferiscono ad esempio il lusso per loro è la privacy la tranquillità la lentezza nel fare le cose molte volte gli italiani il lusso è ostentare ti interrompo perché tu stai anticipando una domanda che avrei fatto a brevissimo circa i punti di vista perché per ognuno di noi il lusso in effetti potrebbe essere differente il concetto del lusso quindi continua pure nella tua descrizione il vero dramma è questo modello tipo milanese pago pretendo mamma mia quello il concetto il detto che si sente dire a Milano non dei milanesi quindi parlo pretendo pago pretendo pago pretendo quindi alcune volte l'italiano ha questa diciamo forma mentis quindi il nostro aniero è un po' più diciamo ha un approccio leggermente leggermente diverso tutte le dovute cautele quando si fanno questo tipo di analisi ovviamente e quindi diciamo che è un problema sostanziale noi quest'anno abbiamo avuto il mercato secondo me il mercato degli stranieri il mercato europeo perché tutta la parte est come dicevo giustamente era un po' chiusa quindi uscendo da una pandemia è vero come avevo detto prima che è riaperto l'Africa però tu vai in una pandemia con delle problematiche serie vai in un altro continente dove la percezione per esempio della sicurezza sanitaria può essere un po' più bassa cerchi di evitare del motivo per cui secondo me la Puglia è stata invasa poi io voglio dire non è che voglio fare sempre bastano contrario però i dati che sono stati dati quest'estate dicono che la Puglia è la metà rispetto all'Emilia Romagna la metà rispetto alla Toscana e un terzo rispetto all'Emilia Romagna quindi noi siamo bravi ma siamo ancora indietro noi siamo ancora dodicesimi tredicesimi e che cosa dobbiamo migliorare secondo te? è quello che ho detto fare turismo noi siamo una regione giovane noi facciamo turismo dagli anni 50-60 ci sono regioni che lo fanno da 200 anni da 300 anni quindi ci sono delle attività consolidate lei è una giovane come attività nel senso quindi ci sono delle attività consolidate anche nel rapporto cioè quando noi facciamo il luxury per esempio è una cosa che molti gli aeroporti hanno bisogno di servizi privati in aeroporto vai in Sardegna vai ad Olbia e vedi l'aeroporto di Olbia dove ci sono tre aerei di linea e 200 aerei privati con tutti i servizi collegati quindi noi alberghi poi fino a un certo punto arriviamo poi servono gli NCC servono determinati servizi per le esperienze all'esterno quindi gente che sa parlare non soltanto l'inglese perché ci sono persone anche siberiani che parlano probabilmente russo quindi tu hai bisogno di gente che sappia le lingue tutta questa attività si consolida in anni ed è fondamentale ed è fondamentale su cui noi dobbiamo lavorare quando si parla di formazione la gente pensa ancora che la formazione è la scuola alberghiera la formazione significa saper accogliere un cliente saper risolvere un problema a un cliente perché gente che dice guarda ho un abito di lì non voglio che me lo stiri e non è che voglio che me lo stiri fa tre giorni lo voglio per stasera o devo andare a un evento perché esco la sera ho bisogno del parrucchiere quindi l'albergatore non fa soltanto l'albergatore deve garantire una serie di servizi si deve preparare perché quando gli vengono a chiedere il parrucchiere o un estetista deve avere in convenzione delle persone che sappiano rapportarsi a determinati però posso dire una cosa in merito a questo quello che tu dici è giustissimo il problema è che non c'è proprio ecco forse il vero problema è che non c'è proprio personale non c'è personale allora se forse se c'è il vero dramma di questo lavoro la fatica non è la gestione del cliente la gestione dell'azienda o il fatturato è cercare il personale in generale poi qualificato non ne parliamo proprio ora non so forse i tuoi alberghi sono vari ma ti posso garantire che a Fasano è un tema si ma a Fasano trovare personale qualificato è molto difficile nella zona della Valle d'Itria è molto difficile io ho un'idea molto chiara su questo però probabilmente che oggi arrivo subito da te Andrea perché sentivi in modo particolare questo tema in effetti come stavi appunto dicendo è un tema piuttosto ampio le cause sono diverse che purtroppo inducono a ritrovare personale adeguato con grande difficoltà tu che cosa ci puoi riportare in termini di dati io ti posso dire una cosa è un tema che è diventato un tema importante soprattutto fondamentale dopo il covid ed è forse sono due le ragioni principali una è che è emersa la fiducia in questo settore e lo dico probabilmente con un po' di tristezza perché chiaramente faccio questo lavoro da quasi 25 anni quindi tu sostieni che probabilmente si è persa la fiducia sì fiducia in questo settore perché chiaramente è un settore fragile ha mostrato tutte le sue fragilità chiaramente tu immagina una persona una famiglia monoreddito dove un dipendente si trova in due anni a lavorare per soli 6-7 mesi chiaramente si è stato fortunato perché vive nella nostra regione tra l'altro e si trova quindi davanti si è trovato davanti a un bivio cioè continuare a investire in questo settore aspettando tempi migliori un settore quindi fragile oppure percorrere un'altra strada quindi io per esempio nella mia piccola esperienza io non ho perso il lavapiatti sempre modesto tu è sempre modesto il lavapiatti Andrea Sabato o una cameriera ai piani io ho perso figure di spessore di rilievo quindi lascierei perdere cosa fanno queste figure adesso? hanno cambiato settore hanno cambiato settore questa è la cosa che mi fa pensare e poi c'è un'altra motivazione importante che è il covid di natura un po' più sociale beh il covid ha un po' sparigliato le carte cioè ognuno ognuno di noi nel suo piccolo secondo me ha messo in ordine delle priorità nella propria vita sicuramente sì l'importanza del tempo con la famiglia l'importanza del tempo libero cioè trovare adesso delle persone disposte a lavorare 12-14 ore magari o delle persone a rinunciare tutti sabati e domenica della propria vita allora unito alla fragilità del settore diventa veramente difficile e poi faccio un po' di autocritica l'ultima a noi che lavoriamo nelle strutture e noi che facciamo i colloqui molto spesso non riusciamo a dare nei colloqui come anche nelle modalità di assunzione tranquillità futuro prospettive formazione ma anche gli alloggi del personale che spesso diamo ai nostri ragazzi cioè cerchiamo di metterci nei panni anche di queste figure e quindi cosa sta succedendo adesso le migliori figure sono loro a scegliere le strutture sono loro a scegliere l'azienda sono loro che ci scelgono non siamo più noi a scegliere i candidati per poi assumerli Francesco sei d'accordo sui vari punti messi in evidenza da Andrea? vado ancora più in profondità cioè nel senso ma perché deformazione perché rappresentano la categoria quindi diciamo essendo rappresentante di categoria in Puglia vicepresidente nazionale conosco un po' tutte le sfaccettature allora noi abbiamo un problema normativo torno sempre lì perché perché nel momento in cui la norma ti dice che la Naspi che la disoccupazione tu la puoi ottenere dopo il quarto mese di lavoro vergognoso e quindi dopo il quarto mese tu puoi avere il 50% noi quest'anno abbiamo garantito tranne alcune strutture d'eccellenza tre mesi quindi la persona viene a lavorare per te per tre mesi e non ha neanche la Naspi quindi il primo problema che noi abbiamo chiesto alla regione che non ha ascoltato e non l'ho chiesto quest'anno l'ho chiesto già nel 2021 di fare i voucher di sostegno a reddito cioè permettere al datore di lavoro di assumerti a maggio ad aprile e licenziarsi poi a settembre ottobre con un contratto almeno di 6-7 8 mesi sarebbe l'optimum perché fai 8 mesi e 4 mesi di Naspi che è comunque al 70-80% e la regione invece di dare soldi inutilmente li dava per la formazione nei periodi a cavallo quindi abbatteva il costo del lavoro per il datore di lavoro che a maggio non aveva bisogno di quella figura al 100% e lo andava da su questo è un primo discorso il secondo discorso è incomprensibile chi ancora dice che non è vero è stato il reddito di cittadinanza ma il reddito di cittadinanza quando lo vai a dare a un ragazzo di 18 anni da 18 ai 60 anni che può lavorare no? e sono 4 soldi perché significa 300-400 euro analizzando e un ragazzo viene e ti dice guarda io vengo a lavorare il sabato e la domenica mi dai 100 euro e quindi parliamo della sala fondamentalmente sala, cucina tutti quei reparti lavora due giorni a settimana 8 giorni sono 800 euro più i 3-400 euro di reddito prende 1.2-1.3 lavorando 8 giorni quando decide lui sono cambiate le priorità ma il problema non è un fatto di priorità e il fatto che poi a 60 anni come pagheremo le pensioni un ragionamento di lungo periodo e qui torniamo al legislatore il legislatore che fa il reddito di cittadinanza non è uno scambio nei confronti di una legge di un voto rispetto a un'occupazione oltretutto poi noi abbiamo l'apprendistato fatto dei 18-35 anni che produce degli sgravi quindi se fai l'apprendistato ti faccio gli sgravi ma se non lavori e stai a casa ti do altri soldi c'è una follia chi dice che non è vero ad aprile l'anno prossimo lo invito nelle aziende nostre a fare colloqui di lavoro e vedere se la gente si presenta o meno quindi è un problema sostanziale dall'altra parte poi noi cosa abbiamo avuto abbiamo avuto una deregulation cioè noi in Puglia abbiamo 600 alberghi in tutta la filiera e 600 villaggi 1200 ma abbiamo 49 mila annunci su Airbnb di cui solo 10 mila sono regolari cioè ci stanno altri 39 mila annunci che producono nero per definizione non assumono e quindi noi siamo allo sbando più totale dove da una parte ci sono tutte le agevolazioni ma dall'altra parte c'è il nulla mancato controllo quindi automaticamente quelli sono non soltanto concorrenti nella parte del cliente ma sono anche concorrenti nell'assunzione della manodopera perché un dipendente in azienda costa il doppio di quello che prende che non è colpa nostra il cosiddetto cunio fiscale se io ti do 1300 euro ma a me costi 2007 2008 a nero ti do 2000 euro 2000 rispetto a i 3000 che costano a noi però sono 2000 euro percepiti dal dipendente che dice a me non interessa e questo succede soprattutto nei più giovani dove c'è tra virgolette la non conoscenza della norma e quindi lo sfruttamento perché tu sfrutti l'ignoranza di un ragazzo a cui gli dai gli fai vedere loro dei 2000 euro rispetto ai 1200 1300 che percepisce in un'azienda ma in realtà gli stai dando meno di quanto vale ma infatti prego Andrea ho un problema proprio sociale perché noi del nostro settore quando incontriamo un giovane non riusciamo a garantirli tranquillità continuità formazione crescita cose che in altri settori riescono a fare ma non è perché il neolaureato non trova più quell'appeal nel nostro settore Andrea perché perché nel momento in cui la politica regionale ha fallito cioè noi oggi abbiamo decantato i numeri di quest'estate ma i numeri di quest'estate analizzati è il fallimento della destagionalizzazione cioè noi quest'estate e io quello che sostengo da anni perché noi parliamo di turismo senza prendere in considerazione un aspetto fondamentale che sono gli stabilimenti balleari che non stanno sotto l'assessorato al turismo ma stanno sotto l'assessorato al bilancio ma noi facciamo mare fondamentalmente la gente viene in Puglia per andare al mare quindi nel momento in cui la regione non ha capito o non fa nulla perché poi si parla di cammini i cammini cioè riescono a compensare e permetterti di aprire a marzo no cioè c'è la politica della destagionalizzazione è molto più ampia dove significa lavorare è variegata soprattutto significa lavorare con i coordinamenti c'era qualcosa che sentivi di dire circa tutto questo sì è vero quando tu parli magari dei appunto neolaureati o i laureati in generale che uno non riesce non può garantirli come dire un contratto annuale o magari a tempo indeterminato però per esempio soprattutto nel mio caso io vedo anche persone non laureate quindi appunto camerieri di sala non vogliono lavorare la domenica non vogliono lavorare il feragosto alle 4 se ne devono andare perché spesso sono donne devono andare a prendere i figli faccio un esempio anche questo è assurdo ma io dico un posto che lavora sei mesi d'anno di mare ma si sa che le mamme giustamente hanno in genere il marito che va a lavorare non ci sono campi scuola non esistono cioè la mamma non sa dove portarli a meno che ci sono dei campi scuola ripeto a Fasano in zona che donano 3 ore cioè alle 4 giustamente nessuna donna può più ragazza che ha i figli piccoli può più lavorare è una follia di maturità del settore quando ti parlo di maturità del settore c'è anche questo rientra anche tutto questo e del territorio c'è anche questo per esempio quindi una madre che ha dei figli piccoli oppure possono lavorare per una struttura alberghiera o hanno delle nonne o hanno degli zii degli aiuti in famiglia degli aiuti in famiglia anche perché se devono mettere una babysitter per venire a lavorare giustamente mi dicono signora io preferisco andare a casa e stare con mio figlio se con quei soldi ci devo lavorare e quindi è una tragedia ma questo è molto grave ma quando ripeto ti dico il turismo ha una storia e tu vai in Emilia Romagna questi problemi li sanno da cent'anni e quindi hanno trovato delle soluzioni per esempio nel nostro picco noi che abbiamo io ho delle aziende che sono aperte tutto l'anno io quattro anni fa prima della pandemia ho fatto una scelta le ragazze ai piani non ho fatto più i full time perché significava rimanere fino alle quattro ho fatto tutti i part time di 30 ore quindi non 40 ore 30 ore in modo tale che ne ho preso ho preso due persone in più inizialmente le persone che lavoravano si erano viste ridurre la busta paga perché da 40 ore a 30 ore ma a distanza mi hanno ringraziato perché loro le due finiscono e possono tornare a casa ad esempio il nostro settore che dovrebbe essere al centro delle politiche dello sviluppo dell'economia pugliese in generale quella italiana noi siamo in un settore con la più alta presenza di donne l'italia ha un problema sull'occupazione femminile e dei giovani siamo i settori che però a differenza di altri settori siamo definiti labor intensive cioè un'azienda per fare un milione di fatturato bisogna di 10 persone di personale un negozio di abbigliamento un milione di fatturato lo fa con una persona però noi diamo noi diamo l'occupazione a 10 persone e il nostro guadagno non si spalma in un anno ma si spalma in 30 anni perché l'ammortamento di un albergo è il 3% all'anno significa che tu devi avere un albergo per 30 anni per ammortizzarlo quindi abbiamo una propensione molto più lunga a lungo termine quando lui diceva di giovani è vero perché c'è un altro problema l'apprendistato tutti parlano di apprendistato ma ci sono i dati che parlano e che ci riportano che sono sempre meno i giovani che si appassionano a questo settore ma perché perché l'apprendistato quando noi facciamo l'esempio di apprendistato all'italiano in realtà l'apprendistato è alla tedesca cioè al quinto anno di liceo o di liceo di scuola professionale non di liceo il quinto anno lo fanno in azienda retribuito quinto anno si fa in azienda retribuito quindi il ragazzo a 18 anni incomincia a lavorare in azienda prende soldi con l'apprendistato fa l'ultimo anno e incomincia a vedere l'azienda che cos'è in Italia deve fare 40 ore se è un professionale e 80 ore se è un tecnico cioè significa due settimane due settimane cioè la persona che deve fare lo chef viene a fare lo stage di 40 ore cioè una settimana in azienda Andrea ti ci ritrovi in tutto questo? sì purtroppo sì manca forse anche la passione per certi mestieri perché ce ne vuole tanto per fare per esempio lo chef o il maître guarda Nina nei giovani la passione c'è ancora è chiaro che non possiamo paragonare questa generazione a quella di 20 anni fa 30 anni fa c'erano uomini e donne che vivevano nelle strutture 16 ore 18 ore siamo tutti cambiati adesso e quindi bisogna un po' riscrivere le regole e aggiornarsi da questo punto di vista però ecco qui il capitolo formazione diventa importante formazione fuori e dentro l'azienda perché poi le strutture più si sale di livello più abbiamo bisogno di gente qualificata certo indispensabile e questo è il vero il vero problema cioè come giustamente diceva anche Benedetta cioè noi quest'anno abbiamo trovato sì delle figure ma non sempre figure professionalizzate come avremmo voluto e e quindi abbiamo lavorato più sulla quantità magari ma perché la base è ristretta e meno sulla qualità stavo dicendo quando ho detto i numeri 15 anni fa le strutture alberghiere erano 2200 in Puglia 2002 oggi siamo arrivati a 1200 2003 quindi è la base quindi il diciamo potenziale collaboratore deve fare una guerra prende e vai in Emilia Romagna prende e vai in Toscana prende e vai in Spagna dove c'è un minimo di regolamentazione a Berlino l'extra alberghiero hanno deciso 30 giorni se sei aperto 30 giorni diventi azienda non sei più a carattere familiale in Italia e in Puglia i 30 giorni dici no ma io sono stato aperto 22 giorni no ma io non sono stato aperto io forse rimango aperto quindi il potenziale mi fai sorridere il potenziale diventa accompagni il tutto con le tue espressioni uniche e quindi automaticamente è normale che un ragazzo si disinnamora perché poi ci stanno gli imprenditori ma ritorniamo su tutto questo tra pochissimi istanti perché ci lasciamo per dare spazio alla pubblicità tra poco con Casa di Alina ben tornati in studio mentre voi eravate in compagnia della reclame io e i miei ospiti qui in studio abbiamo sorseggiato il fantastico caffè Fadi che avete gradito ho notato vero vi è piaciuto moltissimo grazie poi ci stava tutto a quest'ora Francesco torno da te abbiamo lasciato per qualche istante il nostro pubblico stavamo discutendo appunto sul perché purtroppo molto spesso il nostro territorio quindi la regione Puglia si ritrova non pronta definiamola così ad accogliere i numerosissimi visitatori quindi le varie ombre che stiamo analizzando qui assieme quest'oggi beh eravamo rimasti che il problema di quest'anno e mi auguro che dei correttivi normativi possano essere fatti era l'occupazione certo il riferimento ai giovani che lo ha sollevato Andrea che giustamente a un giovane oltre alla prospettiva di un lavoro bisogna incentivarlo motivarlo rendere appetibile il lavoro per fare questo bisogna sicuramente garantire la correttezza della paga il problema come dicevamo che c'è molto sommerso soprattutto nell'extralberghiero che è una concorrenza sleale perché per assurdo si riducono gli alberghi ma si riduce anche l'offerta alberghiera quindi le persone che escono e sono tante dalle scuole alberghiere non sanno si trovano a diverse proposte e diminuiscono sempre di più quindi i numeri di posti di lavoro diminuisce e quindi tendenzialmente i migliori vanno fuori perché poi in una fase di colloquio che dura uno massimo due ore ma può dire tanto è difficile riuscire a selezionare la persona perfetta avere un bacino ma soprattutto garantire lavoro a tutti probabilmente produrrebbe un valore aggiunto nel percorso negli anni ma se questo non c'è non si può non si può fare quindi la gente preferisce andare in Emilia Romagna preferisce come dicevo andare in Spagna a fare esperienza all'estero e su questo le politiche anche quelle le politiche attive sul lavoro sono di competenza regionale qualcosa in più deve essere fatto noi come federalberghi lavoriamo molto con la sinergia con le scuole alberghiere però alcune volte le scuole alberghiere sono diventate quasi un rifugio vengono bocciate dalle altre parti vanno alle scuole alberghiere per prendere un diploma e non deve essere così quindi l'alternanza scuola-lavoro è fondamentale parliamo di numeri le scuole alberghiere hanno riportato un maggior numero di scritti di sesso maschile o femminile di sesso femminile però il problema è che anche lì le scuole in generale scuole alberghiere che hanno recepito molto soprattutto per l'effetto dei vari masterchef perché bisogna dirlo perché i diversi tu sorridi Andrea ma Francesco è sempre giustamente un gente ragionieria è diventato ragionieria alberghiero linguistico linguistico alberghiero diventa quasi una panacea a tutti i problemi ma in realtà poi non diamo sbocco a queste persone quindi quando ritorno al discorso lo stagio è di 40 o di 80 ore e conoscere la realtà alberghiera è fondamentale non avviene che succede che una persona prende un pezzo di carta e poi fa altro nella vita e molte volte noi ci troviamo soprattutto nei profili come diceva giustamente Andrea basta qualcuno che non viene proprio dal mondo alberghiero che probabilmente è disperato probabilmente sono padri di famiglia che devono comunque portare a casa uno stipendio e si adattano a fare delle attività e noi ci troviamo in situazioni in cui di necessità virtù ma se vuoi fare il luxury e vuoi crescere in quella direzione non puoi essere approssimativo e quindi la conoscenza delle lingue è basilare la capacità di saperti rapportare poi quando si fa ristorazione l'educazione il rispetto il sorriso nei confronti del cliente vero Benedetta soprattutto è fondamentale tu sei giovane nel senso come struttura l'Axuri appunto esisti da pochissimi anni in Valle di Tria collocata in zona Savelletri però ci puoi riportare appunto diverse testimonianze soprattutto parliamo appunto di ombre che stiamo qui analizzando in maniera intelligente devo dire è fatto riferimento alle donne che hanno delle oggettive difficoltà ed è stata molto importante come parentesi ti ringrazio per averla sollevata e riportata innanzitutto come diceva Francesco prima nel mondo del turismo in Puglia ma penso ormai in tutta Italia c'è molto sommerso io ho una casa vacanza io ho una casa vacanza l'Axuri ma è un'azienda nata come azienda e quant'altro ma spesso ho dei competitor in realtà abbiamo pochi competitor perché comunque come prodotto diciamo è un prodotto molto di nicchia perché è sì una villa quindi affittata per un unico gruppo quindi non albergo per un unico gruppo di fascia molto alta ce ne sono poche quelle diciamo veramente competitor sono anch'esse delle aziende però ci sono molte altre ville spesso anche degli amici che hanno delle ville stupende mi dicono ah ma metti l'arreddito ovviamente non si può mettere arreddito una qualsiasi villa perché magari è la seconda villa di famiglia non è così semplice comunque ci sono tante persone che decidono di mettere arreddito come appunto un'attività vera e propria ed è il sommerso questo per dire che cosa che purtroppo ritornando al discorso che si faceva pre pubblicità dei dipendenti che a causa della disoccupazione o del reddito di cittadinanza che talvolta è giusta la disoccupazione quando è giusto che ci debba essere io personalmente sono assolutamente contro il reddito di cittadinanza ma bisognerebbe stanziare quei soldi per fare degli apprendistati seri o darli alle aziende per riassumere cosa succede che è difficilissimo trovare lavoratori dipendenti difficilissimo ancora di più trovarli qualificati ma quando li troviamo abbiamo il problema noi azienda quindi io non posso prendere una persona in nero devo fare dei contratti rispetto a magari la casa la seconda casa dello zio della nonna che quella persona mette a reddito che non essendo un'azienda li prende in nero e da me più difficilmente vengono a lavorare perché appunto magari prendono una pensione una disoccupazione un reddito di cittadinanza e già questa è una grande difficoltà per cui non vogliono il contratto quando riusciamo a trovare riesco a trovare delle persone appunto qualificate e quant'altro subentra il problema che siccome la maggior parte sono donne hanno il problema quando sono giovani comunque mamme che entro le quattro devono andare a prendere i loro figli perché non ci sono dei campi scuola o comunque un sistema pubblico e prima dicevamo che c'è proprio mancanza di strutture che intervengono a supporto di questo tipo di esigenza esatto e perché appunto al massimo ci sono dei campi scuola che li tengono due o tre ore per cui chi non ha il nonno lo zio o quant'altro deve giustamente e devono stare a casa non possono permettersi un supporto come una babysitter di pagare una babysitter per venire a lavorare da noi non avrebbe senso e quando assumiamo assumo delle persone invece che sono più grandi spesso succede che non hanno la macchina e non ci sono i trasporti pubblici quindi non è non vivendo a Roma o anche Bari non c'è trasporto pubblico per cui noi non siamo molto distanti dalla città però le persone non ci sono mezzi cioè che è una cosa assurda perché quantomeno per i periodi estivi solo per le persone appunto residenti che devono lavorare ci dovrebbe essere un trasporto pubblico che aiuti queste donne che hanno 60 anni 50 55 che non guidano a farsi portare perché altrimenti poi dicono no ma mi deve portare mio figlio per cui non posso venire prima delle nove cioè non si può lavorare a livello luxury così perché se un cliente ti chiede un'ora e un più di servizio cioè non è che possiamo stare alle dipendenze di una persona cioè è veramente diventato un incubo e poi c'è il problema dell'inglese allora io penso che in questi quindi quello che diceva Francesco prima la conoscenza delle lingue la conoscenza dell'inglese che è una cosa veramente basilare perché su una regione che si basa praticamente innanzitutto una nazione che si basa sul turismo ma una regione che si basa sul turismo cioè siamo ancora che il 90% delle persone non sanno le parole proprio più semplici in inglese cioè veramente è un peccato perché poi il cliente non si sente a proprio agio cioè il cliente straniero che viene non si sente a proprio agio perché non riesce neanche spesso ad esprimere la richiesta e di riferimento ai dipendenti assunti correttamente non sempre i dipendenti stessi si comportano bene nei confronti di figli assunti correttamente assolutamente anzi spesso non vedono l'ora di essere licenziati proprio per prendere poi appunto disoccupazione o reddito di cittadinanza cioè secondo me non è proprio un bellissimo momento ripeto non tanto la disoccupazione che ha un senso comunque ha un senso la disoccupazione soprattutto nell'ambito del lavoro stagionale ha senso lavorare otto mesi e poi magari in quei quattro mesi in cui le strutture diciamo sono chiuse è giusto che un dipendente una persona garantita il reddito di cittadinanza non ha proprio senso ma quei soldi ripeto dovrebbero essere investiti più intelligentemente magari facendo dei corsi di formazione di inglese a tutti ai ragazzi o investirli su il servizio pubblico per permettere alle persone di poter accedere al posto poter andare nel posto di lavoro Andrea Benedetta ha sollevato anche il problema relativo appunto ai trasporti che devo dire si riscontra in diverse persone che vorrebbero lavorare per determinate strutture laxuri che ricordiamo ma anche non laxuri vorrebbero proprio lavorare però magari abitano da una parte il riferimento di quest'oggi è il mondo laxuri quindi spesso si parla appunto di ville di pregio di masserie che sono dislocate nell'ambito delle campagne nostre campagne meravigliose rappresentative della Puglia che non sono sempre facilmente raggiungibili ma non solo dei lavoratori Alina anche degli stessi clienti quindi il problema è veramente generalizzato quando si parla appunto di territorio ancora non maturo noi ci riferiamo essenzialmente a questo poi è chiaro che come ha detto giustamente Francesco le aziende un po' più strutturate più complesse riescono in qualche modo a sopperire per esempio proponendo alle donne dei contratti part time o dei contratti un po' più flessivi come diceva prima Francesco Sì, è chiaro ma le aziende chiaramente che poi sono la maggior parte quelle che rappresentano il nostro territorio che sono un po' più piccole non riescono sono più rigide perché magari hanno due, tre, cinque dipendenti quindi è impossibile proporre questo tipo di elasticità e lì emergono tutti quelli che sono i nostri limiti Ma c'è differenza tra il cliente che sceglie l'albergo il classico albergo e la masseria tipica delle nostre zone del nostro territorio? Beh sì dai Subito lei è partita Beh sì dai Che dici tu Andrea? Che cosa ci riporti? Beh innanzitutto è una tendenza Quella delle masserie delle ville di preso È una tendenza proprio in genere del turismo chiamiamolo di fascia alta alto spendente perché che cosa cerca l'alto spendente? L'alto spendente oltre a essere ben informato oltre a essere tecnologicamente dotato però alla fine poi cerca il contatto col territorio cerca l'esperienza e forse più che lo sfarzo perché un tempo il lusso era sfarzo eccesso adesso è il contrario mi ricordo le frasi di un vecchio direttore noi accendiamo mille candele al giorno nel nostro salone diceva per esprimere tutta la potenza del lusso beh adesso il lusso non è aggiungere ma è sottrarre il lusso è minimalismo e soprattutto è questo intreccio tra radici ed esperienze e anche comodità vabbè chiaramente stiamo parlando di lusso quindi comfort comfort ad altissimo livello però essenziale sì sì essenziale appunto non c'è non c'è più non c'è più sfarzo ma c'è attaccamento alle radici e conoscenza del territorio è questo che spinge ecco perché si parla di esperienze no è questo intreccio tra radici territorio voglia di vivere una regione e dopo quando si parla di turismo esperienziale come lo possiamo collocare descrivere guarda è proprio questo cioè qualcosa di molto intimo e quasi spirituale cioè vivere il territorio e quindi non solo la struttura il contatto con la natura è cittostante che l'accoglie ma parlo di tutto l'ambiente parlo di un territorio appunto e viverlo nella sua interezza è chiaro che poi tu cerchi di declinare questo anche all'interno delle strutture cerchi per esempio nella spa di mettere dei prodotti per esempio che vengono realizzati fare i trattamenti all'olio al vino utilizzando delle uve tipiche tipo negramaro primitivo oppure di fare una cucina molto vicina al territorio quasi a chilometro zero e così via ci sono infatti varie strutture che propongono di andare a raccogliere i prodotti dall'orto per poi cucinarli attraverso gli chef insomma e poterli assaporare poi però arriva l'agenzia di trattati e contesta il lavoro nero è successo nel Trentino Alto Adige e in Veneto ma come il lavoro nero andavano a vendemmiare andavano a vendemmiare certo la burocrazia la burocrazia in Italia è quello che ucciderà questo sistema e ricollegandomi alle cose che dicevano loro e poi partendo dall'inizio ma tutto nasce perché i turisti sono innamorati di tutto quello che ci circonda della nostra natura delle verdure dei nostri profumi sono innamorati sono innamorati di un prodotto che è rimasto allo stato brado cioè nel senso che le nostre strutture quelle che hanno avuto un maggiore successo perché poi noi in Luxury dobbiamo dare atto che è nato nella terra di mezzo quindi nella valle d'Itria perché è lì che si sono concentrate le prime sono nate le prime concentrazioni anche se il turismo di fascia altissima le prime esperienze le abbiamo sul Gargano le abbiamo sul Gargano con la Baia dei Faraglioni i primi 5 stelle perché il turismo come ha risposto per esempio quella zona nel 2022? oggi è una situazione in profonda difficoltà perché lì tornando al concetto di servizi lì abbiamo il problema dei trasporti abbiamo il problema degli approvvigionamenti abbiamo problemi di organizzare come parlando ascoltando se tu hai notato l'albergo diventa un piccolo pezzo quasi inesistente quando io parlavo di settore che deve andare verso la maturità la maturità significa mettere in campo gli operatori per poter lavorare se la Fasano la valle d'Itria ha necessità dei trasporti e il settore è un settore maturo dove ci sono le persone regolarmente assunte le aziende non ci sono molti abusivi è possibile organizzare il trasporto con un avettamento per quel tipo di lavoro quindi significa che tutto un territorio va verso quella direzione l'esempio del 38 Adige l'esempio del Veneto che non sono io quando li riporto sono dei punti da osservare per cercare di migliorare perché noi abbiamo da parte nostra un prodotto alimentare unico non c'è prodotto alimentare migliore che in Puglia abbiamo un clima unico quello che dobbiamo fare è migliorare nella gestione e guarda caso la parte imprenditoriale il suo lavoro lo fa perché se noi siamo ripartiti nel 2020 nel 2021 nel 2022 non è sicuramente per i sostegni che sono arrivati a livello dello Stato o a livello delle Regioni perché c'è stato qualcuno se chiediamo ad Andrea quante ore ha lavorato in azienda non ha lavorato 6 ore 40 come dice il contratto nazionale del lavoro ma ha lavorato 16 ore 17 ore come tutti gli altri collaboratori quindi hanno messo qualcosa in più per poter far crescere la propria azienda quando si parla di economia turistica io faccio poi un esempio molto non essendo un economista ma molto basilare lo si basa su due punti il prodotto interno lordo del settore e gli occupati quando aumenta il prodotto interno lordo e il numero degli occupati si può parlare di un'industria economica cioè che produce valore quando questo non succede perché siamo ai margini siamo ai margini della politica della politica regionale il risultato è dato all'imprenditore ma poi prima o poi l'imprenditore si stanca e sempre a Bari ne abbiamo se un albergo come il Palace a Bari chiude non chiude perché non c'è più trippa per gatti perché c'è un abusivismo che distrugge tutto e poi torniamo a dire i giovani dove vanno poi i giovani ripartiranno e cominceranno nuovamente ad emigrare e quindi noi abbiamo un territorio che può essere veramente il turismo lo fanno a Dubai a Dubai e noi che abbiamo dei territori nettamente migliori non riusciamo a farli perché c'è la mancanza del regolatore che è colui che deve fare le norme deve cercare di controllare queste norme che siano semplici da applicare e che possono mettere le condizioni gli imprenditori di fare il loro lavoro dove rischiano ogni giorno per mille situazioni mille situazioni Andrea ti ritrovi in tutto questo è questo il panorama però ecco è anche per farti capire anche quando dico far vivere le esperienze ai clienti ed è vivo il turismo esperienziale perché a me piace tantissimo in prima persona non è così semplice non è così semplice noi abbiamo dovuto creare all'interno della nostra compagine societaria una DMC che è una sorte di tour operator che accompagna regolamentato perché è qui la differenza i turisti a fare esperienze nel nostro territorio cioè che contrattualizza e qui viene il difficile la signora Maria che fa le orecchiette a Barivecchia perché è lì il passo complicato oltre che chiaramente ampliare anche i costi rispetto ai nostri concorrenti ma è proprio difficile trovare la persona che ti fa le orecchiette e che ti fa un contratto che è assicurata che ha una serie di lingue la maturità la maturità di una destinazione quando c'è qualcuno che ti accompagna c'è qualcuno che va a spiegare a quella signora che deve fare questo passaggio quello che diceva Francesco perché ha la possibilità perché vende mezzo chilo di orecchiette a 7 euro 10 euro cioè sono delle cifre mostruose ma uno che viene dall'America fa un intercontinentale e gli vende le orecchiette 10 euro mezzo chilo che è fuori dalle grazie di Dio a lui non cambia nulla la signora guadagna tanti soldi e si ottiene il match anche perché poi la grande difficoltà nostra è proporci sui mercati internazionali che vogliono determinate garanzie cioè vogliono che tu sia un tour operator vogliono che tu sia assicurato vogliono che quell'esperienza dal tragitto dall'albergo alla signora Maria sia garantita sia tutto garantito e assicurato e anche commercialmente quando io vendo la signora Maria il mercoledì dalle 17 alle 18 a Barivecchia lo sto vendendo un anno prima al tour operator americano e io devo garantire che un anno dopo la signora Maria dalle 17 alle 18 deve stare lì a Barivecchia a farmi le orecchiette cioè è una crescita del territorio graduale ma è difficile sostenuta chiaramente da imprenditori in questo momento ci vuole una visione devi vedere devi vedere molto lontano non devi ragionare nel breve devi avere la capacità di guardare molto tempo avanti tu immagini un tour operator americano che adesso vede un portale dove vede tutte le esperienze questo territorio può offrire cioè il giro in bongolfiera la barriera corallina degli scavi di Egnazia cioè tutte queste cose abbiamo veramente tantissime di attrattive di tesori tantissime e poterle comprare un anno prima garantendo una serie di requisiti però e di servizi ottimali a supporto delle iniziative appunto Benetta stavi dicendo qualcosa prima a proposito di tutto questo hai trovato spazio perché Andrea e Francesco chiaramente essendo grandi esperti da diversi anni ormai è praticamente quasi impossibile molto difficile e tu ci stai riuscendo perché insomma sei molto bravo fai questo lavoro da tanto tempo però trovare appunto la tipicità di questo territorio è appunto la Massaia ora Barivecchia ma anche a Fasano la Massaia e quant'altro però è proprio difficile trovare ma io per esempio lo vedo anche con i servizi a livello estetico con i parrucchieri sai quanta gente ce ne sono tanti che vogliono lavorare ma il 99.9% delle persone è gente che va nelle case in nero e io non posso far lavorare da me gente che fa per esempio noi abbiamo tantissima richiesta di massaggio avendo poi una spa interna con una piscina interna spesso ci richiedono è uno dei servizi che ci richiedono di più e soprattutto nel mese di luglio e di agosto perché poi da settembre in poi è facile insomma trovare quindi trovare gente qualificata qualificata e che faccia fattura perché per noi è un costo e dobbiamo avere la fattura innanzitutto per avere appunto la garanzia di quel servizio perché comunque stanno sempre mettendo le mani addosso a una persona quindi non è che può venire qualunque persona cioè devono essere delle persone massaggiatrici professioniste questo è fuori dubbio fuori dubbio però non è così perché spesso si presenta della gente veramente che dice e che gira per i vari alberghi o varie masserie dicendo che è massaggiatrice ma non è così e anche qualora spesso lo sono non fanno fattura e per un'azienda ritorniamo sempre al punto che poi sono quindi non sono dei professionisti però hanno il coraggio di presentarsi all'interno di strutture sì questo sì che girano magari sono i nomi famosi diciamo un po' più che hanno iniziato questo lavoro comunque parliamo di città piccole Fasano Cisternino cioè non è che parliamo di New York no magari però al di là di questo quando si riescono a trovare appunto delle professionalità di un certo livello non fanno fattura fanno magari delle ricevute oppure devono stare all'interno non so di questa cosa di 5.000 euro e quindi dicono sì annuali annuali e quindi ti dicono no sì metti meno ma io non posso mettere meno cioè capito non so se mi sono spiegata manca la professionalità metti meno che metto meno mentre racconti fammi pagare meno allora se devo mettere meno cioè voglio dire nella fattura cioè non puoi dirmi vuoi essere pagata non lo so 60 euro però ti faccio una fattura di 30 non è possibile non è possibile cioè è proprio la mentalità che va cambiata e no però io perché devo rientrare nei 5.000 euro annuali ma se tu lavori di più paghi di più guarda che Andrea e Francesca stanno sorridendo mentre tu con grande spontaneità e autenticità ci stai riportando è vero cioè noi che qua possiamo in Italia possiamo pagare sempre pochi no perché questi furbetti sono quelli più ricchi di tutti perché cioè veramente io vedo che questi nessuno fa i furbetti sono i più ricchi di tutti nessuno fattura nessuno fattura cioè il giardiniere viene e non vuole fatturare il factotum viene e non vuole fatturare e l'estetista viene e non vuole fatturare cioè io mi sono resa conto in questo mondo che il 90% delle persone non fattura il discorso e torniamo è la maturità del settore la maturità del settore significa il legislatore e quindi chi governa deve fare delle politiche per mettere condizioni questi disgraziati noi vediamo noi disgraziati non loro questi disgraziati ma no ma non vi definite così Francesco non è vero io lo faccio ad esempio io perché mi trovo a fare questo lavoro si sta parlando di difficoltà in questo momento di ombre del settore no non è no ma penso che è un'ombra non solo di questo settore è un po' proprio dell'Italia che ci sono sommersi credibili chi fa impresa oggi ha una serie di norme che sono veramente imbarazzanti il problema poi lo scopri quando hai il danno cioè quando hai il danno oltre il danno hai la beffa allora nel momento in cui giustamente lei è giovane e ha iniziato questa attività da due anni si approccia questo settore e dice ma in che mondo sto vivendo no perché quello mi chiede il nero quello mi chiede il nero quello mi chiede il nero e quello mi chiede il nero una realtà piccola probabilmente che non ha la forza di dire ok facciamo una cosa io assumo il massaggiatore taglio tutto io assumo però lo farò alla fine lo farò perché mi conviene di più poi alla fine il factotum è una mia caratteristica il motivo per cui io non ho alberghi stagionali per questo motivo preferisco soffrire un po' di più perché ho difficoltà a reperire poi le persone che ti servono quando ti servono alla fine farò pure io alla fine se tu vai torniamo in aziende torni in Emilia Romagna in Veneto loro chiudono ad ottobre e riaprono a marzo tranquillamente chiudono tutto e riaprono tutto perché hanno tutta una serie di sistemi che funzionano che non sono oltre il settore specifico cioè un collaboratore che si trasferisce dalla Puglia in Emilia Romagna sa che poi ha la sanità tranquilla che funziona tanto devo vivere in Puglia a Cisternino d'inverno tanto vivo a Rimini nelle colline e sto tranquillo però poi il lavoro ce l'ho quindi la maturità lo fa tutto un sistema faccio un altro esempio per comprendere a noi ci hanno sempre detto che noi valiamo l'8-10% del prodotto interno regionale in realtà non è vero perché quando noi ci siamo fermati nella prima pandemia si è fermato tutto il mondo dell'artigianato collegato al nostro settore quello che lei diceva il falegname il piccolo artigiano il piccolo idraulico il giardiniere che quando apriva uno stabilimento balneare o apriva un albergo stagionale doveva investire 30, 40, 50 mila euro che era economia che funzionava economia collegata che però non va nei nostri dati perché va nel settore di competenza quindi nel settore dell'agricoltura nel settore dell'artigianato e quindi quando noi rivendichiamo una posizione importante all'interno di questa regione non lo rivendichiamo perché dobbiamo andare in televisione o per quale motivo lo rivendichiamo perché vorremmo evitare che i giovani vadano in Emilia Romagna che i giovani vadano in Veneto che i giovani vadano in Spagna avendo una possibilità di lavorare in un territorio cioè stamattina a Bari c'erano 18 gradi 18 gradi significa che tu puoi aprire una persona che viene dalla Scandinavia a 18 gradi fa il bagno fa il bagno noi stiamo col cappotto per le nostre deformazioni quindi tu potresti teoricamente essere aperto con De Deora l'aperto allora la stagione il 7 dicembre di 18 gradi in effetti probabilmente il problema è ambientale è un altro però diciamo di questo dobbiamo parlare che non sono i 18 gradi ma sono i 16 gradi o sono i 14 gradi tu puoi fare attività ma per fare attività devi avere capacità di organizzarti quindi tutto quello che c'è con gli arrivi con la promozione fatta in periodi non per il mare quindi avresti dovuto garantire una presenza di manifestazione oggi arrivi in Puglia vuoi sapere in un determinato territorio che cosa succede come lo sai non lo sai o sei uno che smanetta e si va a cercare le informazioni o non c'è un welcome bari welcome brindisi welcome taranto che significa la città la provincia con tutti gli eventi che avvengono in quel determinato territorio sono cose che sono state fatte si chiamano DMO che sono altre regole DMC cioè l'organizzazione dei territori sono state fatte vent'anni trent'anni prima cioè quando si parla di molte volte di tassa di soggiorno che io contesto contesto perché la tassa di soggiorno non è prendere i soldi modello lo sceriffo di Nottingham è garantire dei servizi andiamo in Trentino che nasce la tassa di soggiorno serve per garantire i servizi di trasporto all'interno della regione per i turisti che vanno in vacanza lì serve per tenere aperto gli asili nido per garantire le donne che vanno a lavorare i mezzi pubblici questa è una destinazione matura dove tutto viene visto e torno a dire l'albergo è una piccola parte infinitesimale per concludere per capire il turista dove vive bene dove vive bene il cittadino e quindi capisci ancora che è più complicato perché significa mettere nelle condizioni i cittadini di vivere bene noi nel nostro piccolo ci mettiamo a disposizione perché molti di noi partecipano e cercano di dare il loro contributo ma puntualmente veniamo visti o come degli alieni o come il sottoscritto rompiscato che pensa che o polemico ogni tanto mi hai detto che ti dicono vabbè voglio dire soltanto perché faccio notare però evviva le polemiche se sono queste faccio notare faccio notare delle cose dove uno ti dice guarda mi metto anche a disposizione per darti una mano e cercare di cambiare non ho capito perché noi siamo gli unici che i dati i dati sul turismo li dobbiamo andare a rubare invece vai in determinate regioni sono open data li vedi vai lì ti scarichi i dati e fai le analisi poi dalle analisi può succedere che qualcuno ha sbagliato quindi non puoi dire che la Puglia va benissimo quando c'è Bari più 55 e qualcuno che fa meno 55 qualcuno che fa meno 55 gli dovrei andare a dire come risolvere i suoi problemi ma anche perché il successo totale è frutto del totale lavoro di squadra del territorio e quindi come diceva Benedetta è bene che tutti questi aspetti che ancora oggi rappresentano riportano dei buchi delle lacune da colmare vadano riviste vada ripianificato un po' il tutto altrimenti i turisti scappano e poi riprenderli è veramente difficile tu immagino ti sarai approcciata con grande entusiasmo a questo tipo di settore la metà dell'entusiasmo è andando un po' via però insomma sono tenace non mollo mai guarda quello che dice lei io porto a che cos'era vedere sempre io respiro tantissima autenticità qui quest'oggi nel mio salotto con le vostre competenze la vostra professionalità lei con tutto il suo entusiasmo che ha investito in termini di energie in questo lavoro di vita perché io vivo a Roma quindi ogni volta devo spostare una famiglia un marito due figli sono mamma due bambini per cui a me quando poi dicono le persone che lavorano da me io alle quattro devo andare via perché mio figlio devo stare la domenica devo stare a casa perché altrimenti si traumatizza insomma mi rendo conto che quanto traumatizzo quei miei poveri figli che li sbatto veramente da una città all'altra però per me il lavoro è sacro no? e forse anche questo e nonostante ciò sono dei bambini fantastici educatissimi che ho avuto anche il piacere di conoscere grazie però lei diceva una cosa quando dice un momento io volevo riportare che cosa è successo a Bari negli anni 90 negli anni 90 perché noi eravamo una destinazione per giovani perché qualcuno si era inventato una campagna di comunicazione che si chiama Stop Pover in Bari perché alla pineta di San Francesco avevano Stop Pover Stop Pover in Bari era una via di mezzo tra l'inglese e il dialetto barese tipico barese che era uno slang praticamente venivano al tempo c'era l'interrail si viaggiava con le tende canadese e stavano tutti all'interno della di questa pineta della pineta di San Francesco a Bari che era una benessima pineta avevamo molti flussi di turisti che venivano dal nord per visitare Bari e che era il punto di riferimento quindi San Nicola e poi andare ad Alberobello alle grotte di Castellano a un certo punto un giornalista ha coniato un termine che in realtà stava facendo un'attività di cronaca si è scippolandia terrible il termine è stato riportato su tutte le testate nazionali e internazionali Bari è stata assaltata a pie pari da tutti i flussi turistici dei gruppi e abbiamo patito quasi dieci anni oltretutto il fenomeno c'era perché c'è il fenomeno degli scippi negli anni 90 a Bari per dire è stato sufficiente un termine coniato riportato su tutti i grandi turo per elettor tedeschi che con Castel del Monte Federico erano ci invadevano sono stati proprio assaltati quindi la gente non dormiva più a Bari nel frattempo si sono sviluppati gli alberghi ad Alberobello Castellano quindi è proprio stata assaltata e noi siamo crollati la prima grande crisi turistica di Bari avviene negli anni negli anni 90 quindi è un momento sbagliare è quello che è stato fatto in dieci dodici anni di programmazione di di promozione con un termine che il nostro hashtag we are in Puglia se non si continua con la stessa attenzione perseveranza nel fare la promozione di capire quali sono i problemi perché arriverà il punto che tu non avrai più nessuno che possa servire a tavola e quindi cosa fare chiuderà il ristorante speriamo che a stretto giro questi problemi possano ritrovare una soluzione concreta proprio in termini di concretezza e soprattutto adesso possiamo essere tutti felici per Bari perché ha registrato un notevolissimo incremento di turisti è stata molto gettonata sì ma infatti ripeto diciamo che adesso quello che io dico anche per Bari noi oggi viviamo un afflusso questo afflusso va gestito va gestito con servizi all'utente significa evitare che le persone abbiano delle fregature quindi controllare dove vanno a dormire sapere che dove vai a dormire è certificato avere dei trasporti pubblici che funzionano bene che siano di supporto avere delle spiagge pulite protette avere degli spazi disponibili per la collettività cioè iniziare a pensare che Bari possa essere tranquillamente una città europea per fare questo non è casuale può essere casuale il boom per poter poi lavorare e essere una destinazione per i prossimi vent'anni ti devi mettere lì e lavorare noi siamo uno dei pochi settori che non può andare proiettarci tutti assieme verso delle prospettive per il futuro che riguardano la nostra regione ma purtroppo siamo in chiusura il tempo a disposizione non so ma è volato ma cosa è successo che dire dobbiamo salutarci dobbiamo salutare i telespettatori ai quali a questo punto diamo appuntamento ad una prossima puntata nell'ambito della quale però ci rivolgiamo al futuro quindi agli obiettivi da raggiungere che ne dite a sabato grazie per aver accettato il mio invito grazie a te Alina è stato molto bello averti bellissimo il format bellissima la trasmissione grazie parlare poi così con degli amici ormai di vecchia data posso dirlo in modo informale in modo informale il tipico clima che si respira sempre qui da me poi dovete sapere che anche quando non ci si conosce ma nascono delle amicizie bellissime che poi i miei ospiti coltivano nel tempo e quindi il potere del salotto di casa di Alina è anche questo sono felicissima io in qualità di conduttrice Benedetta Pezzella grazie per tutta l'autenticità che ci hai trasferito perché sei stata davvero vera grazie grazie bene grazie davvero per avermi invitata nuovamente questo studio molto bello l'altra volta l'abbiamo fatto in masteria molto bello bella tu flower power oggi grazie eravamo da te in esterna studio è stata una puntata peraltro strasseguita all'interno della tua struttura la limonaia lo ricordiamo molto bella suggestiva più che altro profumata tutti questi agrumi ecco in termini di campagne che contraddistinguono in modo particolare il nostro territorio Francesco Caizzi grazie grazie a te per la prima volta qualcuno dirà che mi sono arrabbiato che ho sorriso e che sei stato meno polemico del solito davvero una puntata che mi ha coinvolto molto anche personalmente perché è un argomento che sento tanto e a voi tutti grazie per avermi seguito ancora una volta e a presto con un'altra entusiasmante ed interessante puntata di Casa di Alina il saluto delle eccellenze grazie a tutti